A Garda, immerso in uno splendido parco giardino a pochi passi dal lago, l'hotel Regina Adelaide, con l'atmosfera familiare e accogliente che lo caratterizza, è promessa di un appagante soggiorno a contatto con l'ambiente circostante e con la splendida natura del lago di Garda. La struttura, recentemente rinnovata, è ricavata da una villa Liberty dei primi del Novecento. Gli ambienti confortevoli ed arredati con gusto semplice ed elegante renderanno piacevole la vostra permanenza. Il ristorante del Regina Adelaide vi condurrà con sapore e leggerezza, attraverso una cucina sempre varia e particolarmente curata, sia nella preparazione dei piatti che nella selezione dei prodotti. Gli ospiti potranno gustare inoltre nobili vini dei vigneti locali, italiani o esteri, dalla nostra fornitissima cantina. È particolarmente curata anche la pasticceria, preparata secondo antiche ricette. Dolci, semifreddi, focacce, marmellate, tutti esclusivamente fatti in casa, con grande passione. La medesima eleganza sombria, impreziosita da dettagli di lusso degli ambienti comuni, si ritrova nelle camere. Confortevoli e arredate, con molta cura e attenzione per i particolari, offrono i maggiori comforts, per rendere più piacevole il soggiorno e far sì che vi sentiate come a casa vostra. Il centro Wellness e Beauty offre un'ampia gamma di trattamenti per il corpo, l'esclusivo metodo e i prodotti di bellezza Piroche Cosmetic, trattamenti estetici, massaggi, ginnastica pilates, saune, bagno turco e palestra attrezzata Tecnogym. Ed inoltre, due piscine, una interna e una scoperta, entrambe con idromassaggio, una vera oasi di relax per rigenerarvi completamente.